Questa è una formazione umanistica indicata come sceneggiatrice. A volte partecipa nei sopralluoghi così scroccano qualche pasto. Questo è il regista. Si impara a fare il regista in un giorno? Perfino una scimmia impara a fare il regista in un giorno. Senti, se decidi di farlo, lo devi fare. I comaniacci sono folli, ma i loro cugini vendono tappeti da preghiera e stereotto sulla labrea. La copertura non tiene se si basa su un film che in realtà non esiste. Ti serve un copione, ti serve un produttore. Lo faccio io il produttore? No, tu sei un produttore associato al massimo. Se vuoi fare una brutta copia milionaria di Star Wars, l'ideale è qualcuno che sia qualcuno, che ci metta in nome, qualcuno rispettabile. Con dei titoli di cui fidarsi per le informazioni sensibili. Che produca un falso film. E gratis.